io abbassiamo su abbassiamo che belle giulio che meraviglia un bagno di gbl tutti stai facendo un bagno di gbl chi me l'avresse mai grande appassionato di gbl everest k2 qualsiasi e adesso l100 mark 2 mk2 mk2 allora io e a tempi quindi stiamo ragionando di dire un paio di anni fa ho recensito le l100 prima serie normal normal esattamente queste qui sono una evoluzione dal punto di vista tecnico quindi hanno diciamo migliorato e sono contento che abbiano migliorato alcuni di quei parametri che io pure avevo individuato che mi avevano convinto poco nella prima versione ma hanno migliorato anche notevolmente l'aspetto del borsellino che è uno dei pochi prodotti che costa meno invece di 5.500 la coppia 5.000 stand esclusi ma adesso vi diciamo tu ma nel frattempo mentre va la sigla io già mi immagino che ci saranno quelli che dicono 5.000 troppo maledetti ciao cambiate canale ciao sigla inizierò inizia pure grazie con una piccola diciamo prolusione storica dunque le l100 e prendono le mosse da un modello del 1968 che si chiamava 4310 pro e il fatto che ci fosse scritto pro indicava il fatto che nascevano per gli studi di registrazione dove in effetti spopolarono questo modello ed era concepito per essere posizionato direttamente ai lati del banco di regia quindi immaginatevi il banco di regia e immaginatevi questi due bestioni messi uno di qua quindi erano fatti in modo da da poter stare anche in orizzontale anche in orizzontale però comunque era una sorta di near field monitor quindi qualcosa che tu ascoltavi da da molto vicino dopodiché da quel modello ne venne fatta la versione l100 se stiamo ragionando dei primi anni 70 che è stato uno dei diffusori me lo confermerai più venduti nella storia dell'audio e c'è anche un modello che io che io posseggo che il 4411a si bravo abbassa ancora un po 4411a che ha la particolarità di avere il woofer a sospensione rigida e non con la sospensione in gomma come questo questo dà un vantaggio per chi è appassionato di vintage perché poi le l100 vecchie hanno un problema di foam perché avendo come come sospensione il foam ovviamente dopo un po di anni indipendentemente da tutto è l'età che lo fa seccare lo fa esistono dei ricambi di foam originali attenzione se vi fate rigonare le l100 vecchie che la sospensione va incollata dietro alla carta e non davanti come invece fanno tutti ma scusate questa è una piccola digressione che potrebbe essere utile quindi l100 però ecco ci riporta al fatto che questo è un prodotto se vogliamo vintage rienterpretato in chiave moderna dai tecnici della della jbl i quali devo dire anche nel modello precedente avevano fatto un lavoro eccellente allora dal punto di vista estetico il prodotto è quasi identico all'originale ivi compreso questo griglia quadrex quadrex che era famosissima ai tempi che era diciamo c'erano questi cubetti questi quadrotti e quella più famosa era quella arancione poi c'è anche questa blu e c'è anche nera e si possono comprare le griglie montate su questo supporto di legno oggi questa è una cosa che fa inorridire l'audiofilo più oltransista che dice la cassa deve funzionare totalmente priva del parapolvera nuda però effettivamente insomma sono e come dire molto e conformi a quello che era lo styling e anche la disposizione dei componenti interessante notare che non sono simmetriche cioè non sono speculari le due casse non c'è una destra e una sinistra sono assolutamente identiche secondo me la cosa interessante che sono riusciti a fare quelli della jbl è in qualche maniera di riproporre quel tipo di sound cioè non è un diffusore che suona come un diffusore moderno è un diffusore che suona abbastanza simile alle vecchie l100 ora perché io lo dico lo dico perché e me lo ricordo bene in classe mia c'erano alle superiori c'erano due ragazzi due compagni che avevano a casa l'impianto del papà con le l100 e tu li invidiavi porca miseria se li invidiavo c'era l'indecisione se invidiare quelli con le l100 o quelli con le AR10P greco che forse mi piacevano di più però insomma dai era sicuramente era sicuramente un gran bell'andare e dal punto di vista della diciamo così e distribuzione dei componenti abbiamo un generosissimo woofer da 30 centimetri che oramai non si vede più nelle casse normali che non vanno spesso oltre i 25 magari raddoppiando il driver quindi è una è una ricercatezza esatto con il cono e in cellulosa corrugata per aumentarne la rigidezza poi c'è un unità midrange a cono e un twitter a cupola in titanio questo magari a tempi non c'era il titanio diciamo era è una cosa più le prime avevano addirittura il twitter con la cupola in carta esatto ecco e è assolutamente quasi superfluo evidenziare che dal momento che c'è il tubo di accordo messo qua davanti sono dei diffusori che funzionano in bass reflex e tra l'altro questo questo fatto che il tubo sia anteriore aiuta un po' anche il posizionamento rispetto alla alla distanza della parete di fondo ora però mi sento anche di dire che data la dimensione così generosa di questo woofer da 30 e data comunque la generosità di emissione in gamma bassa di questa l100 e insomma la metrata secondo me è il minimo il minimo possibile io direi una metrata dal dalla parete di fondo e almeno un'ottantina di centimetri dalle pareti laterali piuttosto angolate verso il punto di ascolto con gli stand che diventano con gli stand che probabilmente li vediamo in campo largo da quella parte lì ma poi vi facciamo vedere un dettaglio e questi diffusori sulla scatola ed è paradossale c'è scritto bookshelf da libreria ora mi immagino qual è la libreria che tiene 27 kg mi pare che pesano ciascuno e poi sono profonde insomma queste non sono diffusori bookshelf nella maniera più assoluta ma non sono neanche i classici diffusori da stand perché sono talmente grandi che posizionate su uno stand da 60 avresti il twitter troppo in alto né tantomeno da pavimento né tantomeno da pavimento né tanto sono pensate per funzionare sui loro stand che sono dei tubolari a sezione quadrata molto molto graziosi che le pongono esattamente in questa posizione che vedete leggermente angolate verso l'alto in questa maniera si sfrutta la direzionalità e la dispersione del twitter e devo dire funzionano molto ma che facciamo sventriamo e aspetta volevo ancora dire un paio di cose ah sì interessante il fatto che entrambe le casse e ovviamente entrambe e dispongono di controlli sul mid range e sui standard pratici però attenzione se ci fate caso e anche qui facciamo un piccolo dettaglio e la corsa utile di questi due regolatori che non sono a scatti ma sono continui è un terzo un quarto facciamo in aumento e tre quarti in attenuazione il che significa probabilmente che i signori di gbl sono consapevoli del fatto che in gamma media e alta questi diffusori sono piuttosto esuberanti diciamo così e quindi ecco ti consentono con questi controlli noi noi abbiamo ascoltati a zero poi dopo ne parleremo sì o una cosa molto importante da dire di questi diffusori e che sono diffusori che quasi più di altri ha bisogno di rodaggio io direi che le 50 60 ore e sono il minimo necessario perché poi che cosa succede che per avere la gamma bassa sei portato a salire col volume ma se sali col volume mid range e twitter strillano troppo quindi la bisogna farle un po' correre noi sono diversi giorni che ce l'abbiamo qui dentro che stiamo facendo andare e adesso si sono adesso ci piacciono un'altra ultima cosa sulla sulla componentistica e sul bwiring la vuoi dire adesso la vuoi dire dopo il bwiring è stato aggiunto il bwiring quindi il crossover seppure molto simile a quello delle precedenti l100 è stato ricablato è stato riprogettato nel layout per permettere il bwiring o bamping bamping e il twitter è lo stesso mentre il mid range e il woofer sono leggermente diversi quindi sono stati migliorati il woofer è stato irrigidito e alleggerito il mid range gli è stata data maggiore corsa quindi sono sono dei componenti migliorativi rispetto alle l120 il che è testimoniato dal fatto che la sigla sia del twitter che del mid range è diversa rispetto alla sigla della serie 100 prima del mid range e del woofer e del woofer e del woofer e del woofer e del twitter è rimasto lo stesso è rimasto lo stesso bene sventriamo sventriamo pronti pronti ciao caro giulio allora guardiamo prima il mid range avvicinati dai mi avvicino avvicinati adesso prima di tutto il contenitore eccolo qua in cartone togli il vitino sì questo serve per fare da camera separata per il mid range ok eccolo qua ecco il mid range eccolo qui inquadriamo prima il mid range questo è una sospensione rigida a doppio anello ok cono in carta trattata ok campate cestello in alluminio con campate lavorate in modo da evitare le riflessioni vicine il componente il jm 125 pc 8 nuovo ok ecco qui il materiale assorbente vediamolo relativo esclusivamente alla camera del mid range ok ok o il contenitore è fatto in mdf ad alta densità da 2,5 centimetri vediamo ecco qui lo vediamo molto molto facilmente ok rimettiamo a posto il mid range diamo un'occhiatina al twitter ho tutti i magneti sono inferrite twitter jt 0 25 t 2 trattino 4 pensare un po sicuramente un 4 ok sicuramente un 4 home come abbiamo detto cupola in titanio ok in questo caso se ci possiamo avvicinare al buco sul mobile appena hai fatto l'inquadratura perché possiamo vedere che questo è fresato eccolo quindi porta il componente a filo a filo cosa che invece non succede per il mid range e invece poi succede per il bufere no allora vogliamo far vedere prima il crossover o prima il cross allora il crossover eccolo qua eccolo qui crossover fatto gli ammetti scusa sposta la luce perché se non ce l'ho proprio addosso va bene così così va bene molto molto meglio la crossover che c'ha tre bobine in aria e una e una sola bobina con nucleo inferrite componenti tutti di livello molto elevato e notare poi dietro il cestello per il biwiring ok il cestello per il biwiring vediamo se arriviamo a mostrarlo eccolo qua ma poi devi fare un altro sforzo perché ti devi girare verso l'alto per far vedere il setto di rinforzo del contenitore che è molto bello eccolo qua eccolo qua e questa è una cosa che la vecchia originale diciamo quella degli anni 70 non aveva esatto quindi una sorta di v che fa da puntone esatto v valletta 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 bene questo è interessante molto interessante passiamo poi al pezzo fortissimo eccolo qua piano piano che è il v fa fa il woofer utilizza eccolo qua che arriva arriva il gigantone eccolo qua jv 300 sv8 questo utilizza il cestello standard per i woofer professionali della gbl infatti potete vedere che è un cestello spaventoso cestello in alluminio con questa forma particolare che serve prima di tutto ha una forma dissipante perché questi queste scanalature che stanno tutte in giro servono a far prendere aria alla bobina mobile queste sono campate di forma che come abbiamo già detto per il midrage servono per evitare le riflessioni vicine e poi qui c'è questo gigantesco foro eccolo qua vediamo se riusciamo a che serve proprio da ventilazione di una bobina mobile il magnete è un magnete in ferrite come potete vedere curiosamente siccome questo questo cestello è utilizzato come ripeto per vari woofer può avere magneti di dimensioni diverse quindi può accogliere magneti anche più grandi infatti possiamo vedere che questo anello ha la capacità di accogliere magneti anche più generosi secondo il secondo l'altoparlante e il tipo di applicazione che per il quale verrà utilizzato facciamo vedere la la membrana con questi rinforzi con questo particolarissimo trattamento eccola qua e la bobina mobile non si vede perché è annegata qua dentro e quindi è praticamente impossibile da vedere fosse molto grande si può darti una mano riesce a girarlo e se adesso ci provo ci provo classe se molto richiesti ma cara giulio caro giulio questo peso la mira eccolo qua eccolo qua in tutto il suo splendore bellissimo 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 e ricordiamo ecco soltanto che l'interno del diffusore è completamente riempito con assorbente acustico va bene adesso al faticoso rimontaggio ok ciao 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 allora preferisco allora sì siccome noi stiamo molto a sentire quello che ci dite che ci dicono i follower c'è stato recentemente un gentile signore che con toni molto pagati cosa che noi abbiamo apprezzato ci ha suggerito di concentrarci maggiormente sugli aspetti della sonori della critica sonora e c'ha ragione e ha ragione e ha ragione e ha ragione quindi adesso noi proviamo sarò molto sintetico te piacciono mi piacciono adesso vorrei spiegare ai fallova che io sono un collezionista di gbl ci sono avute tante c'è avute le l100 c'è avuto quelle grandi con due woofer da 38 ce ne aveva avute di tutti i colori quindi ora c'è una coppia di 43 11 e probabilmente una coppia di l100 dico probabilmente perché ci sono due scatole nel mio nel mio magazzino e se non mi ricordo male c'è anche una coppia di l100 devo andare a vedere male mk1 no quelle vecchie vecchie attenzione molto vintage molto vintage quindi a me il suono gbl piace e convince non vi aspettate non vi aspettate un suono troppo moderno ma neanche siccome io le gbl vecchie le conosco bene queste nuove sono molto distanti da quelle vecchie molto molto distanti per cui se se hanno diciamo c'è in certi toni possono ricordare le l100 vecchie però sono delle casse moderne delle casse che non sfigurano accanto a tanti altri poi è un po un fenomeno parliamoci chiaro che che è in voga no perché anche la clip ce le ha fatte le hanno fatte in tanti questi questi remake del passato allora personalmente siccome è capitato per caso e forse anche un po per sfortuna ma insomma io mi sono ciucciato il rodaggio sia di queste che delle vecchie quindi le ho sentite entrambe appena uscite fuori dalla scatola di queste di queste nuove mi ha piuttosto colpito il fatto che strillano mi si passa il termine notevolmente meno rispetto alle vecchie cioè le vecchie la prima serie mi era sembrata piuttosto aggressiva piuttosto diciamo ruvida in gamma medio alta questa invece mi è sembrata molto più composta molto più se vogliamo tra virgolette dolce e cosa che io ho apprezzato detto questo le nuove come le precedenti ha bisogno di un certo rodaggio come abbiamo detto proprio per permettere al buffer di cominciare a partire e di farsi sentire anche a basso livello perché all'inizio devi per forza di cosa alzare il volume per farlo cominciare a muovere poi forse immagino che la sospensione si ammorbidisce beh questo sì questo esatto meccanico poi sì meccanico poi tra l'altro sono sospensioni grandi grandi è un buffer grande quindi ho detto questo quello che io trovo veramente ammirevole del lavoro fatto dai tecnici GBL è che è vero mantiene una coerenza con il sound dell'epoca e quindi non immaginatevi un diffusore iper dettagliato e però molto meno di quanto uno si potrebbe aspettare insomma è un diffusore che si capisce che è stato riprogettato in tempi recenti con materiali moderni anche e quindi riesce a coniugare abbastanza bene l'aspetto della tradizione del suono GBL con la modernità ciò detto ciò detto secondo me più che timbricamente perché poi può piacere non piacere a Giancarlo piace molto a me forse un po' meno ma insomma timbricamente secondo me ci siamo quello che secondo me è un po' problematico per il mio tipo di ascolto è che purtroppo data la dimensione del diffusore è molto 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 difficile farli sparire e per me quello è un parametro essenziale cioè per me la messa a punto del diffusore è quando anche a occhi aperti la musica origina dallo spazio dell'ambiente e non capisco che origina dal diffusore questi sono diffusori tradizionali quindi il mobile è molto ampio ci sono amplissimi spazi ai lati dei driver e per forza di cose il mobile in qualche maniera influisce e quindi ecco è un po' quegli ascolti ripeto anni settanta anni ottanta in cui questa tematica dell'immagine e che per me è tanto importante diciamo forse per una critica moderna e tanto importante non c'era all'epoca quindi ecco forse l'unico vero appunto che io gli farei non è tanto sulla timbrica perché quella giusta è quella jbl sulla velocità strano ma questo woofer è velocissimo e quindi quello contrasta un po' cioè quelle vecchie erano più lente queste invece sono veloci sono reattive sono sono brillante è chiaro certo che se senti le suite francesi e il calvicembalo ben temperato forse non è proprio il loro il loro ambiente però è un'amplificazione giusta perché questi vanno abbinati con non l'abbiamo detto 90 db 90 db di efficienza ma comunque non ci dimentichiamo che non è vero e non è detto che se un diffusore ad alta efficienza è semplice da pilotare queste non sono particolarmente complesse da pilotare ma se vi volete divertire con un bar col basso frenato che ha descritto giulio ci vuole un amplificatore di una certa potenza e di una certa qualità il nostro copland cs a 100 ci si è abbinato perfettamente senza nessun problema è andata a nozze però ecco ma non vi aspettate da un amplificatore vintage per esempio di ecco ecco io li avrei qualche dubbio qualche perplessità o e mi viene da pensare che in questa fase di interregno però dimmi se sbaglio forse trovate in giro quelle precedenti la prima serie e anche la seconda serie è probabile e magari la prima serie la trovate a un prezzo scontato con più scontato e ecco tenderei però a dire che le migliorie che sono state apportate nel modello mk2 sono significative sono significative e tra l'altro c'è il tema della diminuzione del prezzo del quale abbiamo già accennato che non è poco perché mi pare che ballano 500 euro insomma non sono esattamente 10 per cento nel poco poi volevo ricordare che ora la gbl che è del gruppo arman international che è stato comprato da samsung quindi dietro c'è un colosso dell'elettronica che però nel fare l'operazione non ha messo più di tanto bocca rispetto alle metodologie della gbl lasciando il produttore libero di continuare a progettare come come sapeva fare quindi sinceramente questi frutti si vedono perché tra l'altro questa diminuzione di prezzo e migliorie dei componenti significano che dietro non c'è solamente un'operazione di marketing ma c'è una testa pensante sicuramente una cosa che io mi sentirei di poter affermare e senza timore di essere smentito è che questi diffusori vanno obbligatoriamente acquistati con gli stand sì per cui considerate i 320 50 sicuramente comincia con tre quindi sarà 350 orientativamente euro degli stand perché purtroppo non c'è verso di fare altrimenti e non li puoi mettere a terra perché assolutamente perché il woofer sarebbe troppo attaccato al pavimento non avresti la giusta angolazione per far lavorare il twitter insomma no vanno utilizzati con i loro stand e purtroppo neanche a dire che li potete utilizzare con eventuali stand che avete dentro casa perché è improbabile che abbiate dentro casa degli stand così bassi sì a meno che non ci avevate a me è capitato io avevo degli stand delle esb 100 ld come no ok che erano molto simili come litraggio come cuba raro e quindi ora ciò ciò le 43 11 stanno su su quegli stand lì che sono poi alla fine molto simili perché utilizzavano o però adesso dal punto di vista emozionale caro giulio ma hai tolto le parole di voi ecco devo dire che sentire ora the dark side of the moon perché perché stiamo facendo il tour ma rock alto volume con queste casse è veramente una goduria jazz jazz che magari io mi ci diletto di più è una goduria sapete cosa secondo me il la chiave la parola chiave di questi diffusori ma l'avevo scritto anche nella recensione su carta che avevo fatto è proprio divertimento e a distanza di più di un anno mi ci sono ritrovato cioè sono divertenti e poi sì se ti metti come dire con l'approccio del critico audio gli puoi trovare sì dei difetti però fondamentalmente sono diffusori divertenti cioè io me li immagino in un salotto di casa magari un salotto un po ampio e sono gradevoli sono goduriosi sono di compagnia e coinvolgenti emotivi e emozionanti e questo non è poco e poi tra l'altro sono in grado di sonorizzare grossi ambienti perché avogia dimentichiamo che il woofer è da 30 e la potenza sopportata non è molto alta quindi non c'è problema e io mi sono fatto anche un giro con musica sinfonica grande orchestra anche il se non sei proprio un maniaco della scansione dei piani sonori delle profondità e invece ti piace essere trasportato insomma fanno loro io lo trovo quasi sia queste che poi quelle più piccole le L82 le L52 quasi degli oggetti educativi voglio dire l'appassionato di fai quello che sente le scansioni quello che sente i piani sonori forse siamo sempre di meno e sempre di più c'è bisogno del nuovo appassionato che si diverte che che apprezza un ascolto di qualità e credo che questo tipo di suono sia quel tipo di suono che possa più facilmente avvicinare l'appassionato che non sa di esserlo o che si è dimenticato di esserlo è vero ecco perché quello che io ho visto nel anche nel tour del dark side of the moon nel quale io proprio puntato a appassionati che non c'entravano niente con la hi fi messi di fronte a un bel ascolto una bella cassa un'emozione rispondono rispondono quindi ecco questo tipo di ascolto è l'ascolto che forse di più avvicina perché colpisce più di magari di un ascolto molto raffinato ma che rimane un po' in punta di piedi e che può capire più il critico di quanto non possa capire il nuovo appassionato ne sono ne sono totalmente convinto insomma questa è una cassa emozionante che fa innamorare dell'ascolto tante persone molto di più di quanto possono essere i diffusori adesso in questo momento mentre parlo mi vengono in mente le vivid audio le caia s12 per le quali io sono impazzito qua dentro anch'io sì però ecco io forse sono impazzito per quei diffusori perché è da 40 anni che 40 magari 40 di più che gioco con questa roba e allora lì coglievo qualche cosa ma è poco immediato questa invece pam è immediata arriva subito ok penso che le abbiamo anche descritte sonicamente in maniera piuttosto ci dica il follower se va bene così se va bene così se va bene così quindi subscribe campanella sito assolutamente sì ci vediamo presto può darsi che io e te ma poi faremo uno chart staremo al milano yen e ci stiamo organizzando per quindi per fare un incontro con i nostri follower in quel di milano ok ciao ciao ciao